Inviate la spiga alla boutique Gherardini con Paola Manganini. Come nasce quest'idea del design in vetrina? Vuole dare la possibilità ai ragazzi giovani di esporre le loro creazioni e questo è un progetto che dà la possibilità anche ai giovani designer di mettere in vetrina le loro opere e quindi di rendersi famosi anche al pubblico che non li conosce. Quindi danno la possibilità di mettere a disposizione del pubblico delle opere sconosciute. Gherardini quale designer ha scelto per questo evento? Ha scelto un designer giovane un po' molto innovativo che ha creato appunto questi pannelli, questo prototipo di pannelli fotovoltaici che rendono vivibili le vetrine perché suonano e quindi le rendono vivibili e interattive. E il designer come si chiama? Il designer mi si chiama Michele Favale. Sì, questa qui è la vetrina dove ho installato i fotovoltaic drums che sono dei pannelli fotovoltaici che battono al ritmo della luce. Più luce c'è più battono velocemente.